Sabato 20 luglio tutti quanti qui sul canale alle ore 20 per la live dell'evento finale di questa stagione 9 E tu di quale team farai parte? Sceglierai il team del Kattus oppure sarai a fianco al Dokus? Musica Bene ragazzi io sono Martex bentornati su un nuovo video di Fortnite Oggi cominciamo subito con questa schermata perché voglio farvi vedere qualcosa del negozio oggetti E qualcosa di veramente particolare ci sono delle skin fantastiche e dei premi gratuiti ovviamente per tutti quanti voi Inoltre da precisare ho registrato per 30 minuti di fila ragazzi il video Quindi in questo momento lo sto riregistrando perché ovviamente il microfono era mutato Anzi non era nemmeno selezionato Dato che come in molti ieri avranno visto avevo cambiato location per la live Il microfono da Blue Yeti è tornato su default quindi raga rip Nel video precedente ragazzi avevo regalato wrap, avevo regalato gli standardi ma comunque ripetiamo il tutto Raga andiamo a cliccare su negozio oggetti ed eccovi lo shop di oggi Sulla destra ragazzi negli oggetti giornalieri come potete ben vedere dalla clip pre-registrata Avrete due standardi che si possono solamente regalare ad un vostro caro amico Appunto a 0 V-Bucks quindi ragazzi sono gratuiti Abbiamo lo standardo del Dogus e lo standardo del Catus Una cosa che consiglio di fare a tutti quanti voi è di regalare ad un amico uno standardo E poi che il vostro amico quindi il ricevente regali di conseguenza a voi l'altro standardo E così via diciamo di fare uno scambio reciproco tra i due Sempre sugli oggetti giornalieri ragazzi abbiamo Scanline Una wrap animata addirittura da 300 V-Bucks Credo di non averla mai vista Wrap che ovviamente si va ad affiancare a tutto il set del nuovo pacchetto Che tra pochissimo andremo a vedere Comunque la scorriamo su tutti i vari modelli ragazzi Questo super ologramma mi piace un casino Veramente bella e per 300 V-Bucks ragazzi da scioppare subito Ma passiamo agli oggetti in evidenza Tutte le skin sono stra belle cominciamo subito da quelle femminili ragazzi Ho acquistato il predone contrassegnato Credo che sia quella da più try harder possibile E costano tutte 800 V-Bucks Quindi stiamo parlando di skin non comuni Ve le faccio vedere una per una ragazzi sono fantastiche Sembrano le skin dei calciatori riportate ad 800 V-Bucks Come potete ben vedere ho già lo standardo del Catus Quindi ragazzi fatemi sapere qua sotto tra i commenti come ad inizio video per quale team ti fate Terza skin ok milite standardo stra bella anche lei Raga sono troppo sono davvero troppo Passiamo subito alle skin maschili ok Sostenitore simbolo andiamo avanti Massino marchiato ci piace Poi che cosa abbiamo cecchino di classe Raga una cosa che ho notato in questa skin è che i capelli sono super buggati purtroppo Eh si c'hanno questa forma che non segue proprio la skin ma vabbè Ultima skin maschile logo LT Ragazzi sono tutte belle belle Non dico altro raga non si può dire altro Abbiamo anche altri oggetti che vanno poi a completare tutte le skin odierne Infatti ci saranno piccone, deltaplano e addirittura mantello da personalizzare Ecco qui il mantello ragazzi 400 V-Bucks Fantastico anche lui shoppato subito ragazzi non appena uscito Il secondo oggetto poi è il piccone E di questo vi faccio ascoltare subito il suono Particolarmente deluso Non mi piace 500 V-Bucks per lui E per concludere il deltaplano Incrociatore personalizzato Normale ragazzi niente di che 500 V-Bucks anche lui In quello che rimane degli oggetti giornalieri ragazzi abbiamo Bacchetta Stella Vabbè oggi sono poco interessato a questi altri item Abbiamo Glitter Con la nuova skin tra l'altro E poi extraterrestre Questo mi piace Raga era uscito un video perfetto credetemi e sto qui di nuovo a registrarlo Non ci posso credere Comunque torniamo nel menu principale perché voglio parlarvi un attimino di questa skin Lei fa parte del pacchetto breakpoint appunto punto di rottura E' disponibile da pochi minuti per tutte le piattaforme al prezzo di 9,99 euro Cosa riceverete una volta che acquisterete questo pacchetto? Skin backpack più 1000 V-Bucks ragazzi E la cosa bella di questi 1000 V-Bucks sapete qual è? E che dovevano essere conferite a tutti i player tramite il completamento di determinate sfide Ovvero queste qui Tramite un bug ragazzi abbiamo già ricevuto tutti questi V-Bucks Quindi appena comprate il pacchetto avete già 1000 V-Bucks nel portafoglio E in pratica potete utilizzare i 1000 V-Bucks del pacchetto per andarvi a shoppare una skin di quelle odierne Ragazzi è fantastica questa cosa Ultima cosa per ciò che riguarda le skin ragazzi e poi ci buttiamo in parco giochi Ovviamente per modificare il colore della divisa e lo standardo che porterete in gioco Dovrete andare su armadietto e poi selezionare la voce degli standardi Cliccare qui, andare su colore, scegliete ogni singolo colore Poi avete una personalizzazione assurda E soprattutto l'icona se la potete cambiare In questo caso vado a mettere bananita, arancione e via ragazzi skin cambiata Da dove possiamo cominciare perché ragazzi devo parlarvi di un pochettino di cose Prima di tutto dirigiamoci ad impianto a pressione perché è proprio il fulcro del video Come avrete visto dopo la patch 9.40 di ieri mattina ragazzi abbiamo ritrovato il robot così Possiamo dire proprio che è vestito da festa e si sta preparando per il 20 luglio Comunque ci abbiamo talmente tanto scherzato raga sulla testa del Dogus che alla fine raga si è rivelata Essere proprio ciò che pensavamo dall'inizio Ovvero è il leader squadra coccole ragazzi non c'è altro da dire È proprio lui Anche perché più che incutere timore ragazzi è molto simpatico come robot Forse alcuni si staranno chiedendo ancora perché così tanti colori Perché è proprio questo mix Infatti come colore principale anzi come stile predominante possiamo appunto notare il leader squadra coccole Sulla destra invece abbiamo un po' di alla deriva Sulla sinistra passiamo al Rex Gamba destra tomato e gamba sinistra invece Durburger ragazzi Questo robot è assurdo Questo perché ovviamente si va a ricollegare a tutte e 5 le skin Nonché i 5 stili che vanno a comporre la skin singolarità Se non lo sapeste per la mappa sono sparsi 5 caschetti quindi 5 elmi da raccogliere Che appunto vi conferiscono degli stili in più da portare sulla skin Se non sapete di che cosa sto parlando ragazzi vi state perdendo davvero tanto Vi lascio qui il link tra le schede Guardate tutto il video e ovviamente raccogliete tutti gli elmetti Per ciò che riguarda la testa invece ragazzi Non so quante volte ne ho parlato tramite i video Ma Jonesy ci aveva anticipato tutto Il bello è che ce l'avevamo lì sotto gli occhi Tramite questi graffiti e dopo aver raccolto un sacco di fortbett Siamo riusciti a vedere la testa di tale Dogus Però non riuscivamo a credere che sarebbe stato così tanto pucciosa alla fine Ed invece ragazzi tale graffito tale robot È proprio lui raga è proprio lui Un'altra cosa che dobbiamo notare di questa schermata È che appunto nel momento in cui andiamo a completare tutti i fortbett Quindi li prendiamo dal primo al centro Jonesy si sposta dalla parte centrale E ci fa vedere ciò di cui vi ho parlato due giorni fa Ovvero quello che si gelava dietro di lui Ragazzi che cosa notiamo al centro è proprio lo scontro finale di questa season Catus vs Dogus Tra l'altro ragazzi quest'ultimo ha tra le mani una spada Che per il momento qui mi pare di non vedere Dovrebbe essere una mega infinity blade Poi ditemi se non ho ragione ragazzi Ma il collo non è formato da quelli che sono i cavi Che partono da sponde del saccheggio Ed arrivano a pinnacoli pendenti Su quelli che invece dovevano essere i fori per essere ricaricato Sembra che siano stati piazzati dei razzi Un'altra cosa che è apparsa ragazzi E qui si nota poco perché mi trovo in una partita in cui era giorno E che al centro del timer è apparso il simbolo di pericolo Infatti è proprio lo stesso simbolo che viene proiettato in alternanza su tutti i poster della città Sto parlando proprio di questo qui ragazzi È proprio lui Quindi adesso andiamo a spiegare per l'ultima volta questi poster Quando il pericolo colpisce prendi l'eye ground Questo perché ragazzi nel momento in cui entreremo nella modalità per assistere all'evento Tutti i player saranno dotati di un jetpack Che ci aiuterà a salire per tutte queste piattaforme sparse per aria Da questo standard ragazzi ovviamente ci colleghiamo anche al duck and over Appunto ragazzi che cosa notiamo? Un bel jetpack sulle spalle della default skin Qui dice we can build it ovvero possiamo costruirlo A voglia se l'abbiamo costruito ragazzi Giorgetto il saldatore ci ha dato una mano immensa in questa impresa Tanto di cappello a taledrone Anche perché lui raga esattamente lui eccovelo qui Non so quando ma verrà droppato all'interno dello shop Quindi sarà una skin che porteremo in gioco Skin un po' troppo gigante ragazzi L'associerei proprio anzi l'affiancherei alla skin beast mod Comunque ricollegandoci a ciò che vi ho detto pochi istanti fa ragazzi Ovvero la questione di prendere l'eye ground tramite il jetpack Questo lo so perché tramite il leak abbiamo scoperto che la modalità si chiamerà The final showdown Anche la epic stessa twitta 72 euro rimanenti prima dello showdown finale La descrizione dell'evento o meglio della modalità che utilizzeremo per guardare quest'ultimo Dice avviare il protocollo battaglia finale per difendere l'isola Sono stati distribuiti i vari jetpack prendi l'eye ground volando sopra le piattaforme Quindi ragazzi assisteremo tutto quanto da qui Verrà distribuita anche tale emote per andare a tifare o il team kattus oppure il team doggus Infatti una dice I love kattus e l'altra I love doggus L'unica cosa che mi chiedo io ragazzi Cambierà la mappa proprio come si dice dopo l'evento oppure rimarrà così com'è Io vi lascio con questo quesito perché non voglio allungare troppo il video Ho tantissime altre cose da farvi vedere Ve le mostrerò ovviamente in un altro video super riassuntivo nel video di domani alle 7.30 Quindi raga super carichi perché ho troppe ma troppe cose da portare qui sul canale Mi raccomando se il video vi è piaciuto un bel like condividetelo con tutti i vostri amici Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti E ricordatevi che se volete potete supportare tutti questi video inserendo il codice creatore JKR Martex nello shop Noi ci becchiamo molto ma molto presto Un saluto da Martex Ciao brothers Ciao Ciao Ciao